Lishani presenta Linea Lishani EduSystem Il kit prescolare più ricco e completo La linea EduSystem comprende il tavolino molto attivo, la lavagna parlante 2 in 1, il laboratorio leggo e scrivo, la scuola di scrittura con il tavolino luminoso e la lavagnona magnetica didattica. Grazie al Lishani Educational Interactive System, con tutti i giochi dell'EduSystem è possibile continuare a giocare usando un qualsiasi tablet. Basta scaricare l'applicazione gratuita l'Ace relativa al prodotto EduSystem acquistato e il tablet interagirà con il prodotto stesso. Tavolino molto attivo contiene una ricca dotazione di giochi educativi per lo sviluppo delle competenze di base, vocali, numeri, forme, colori, logica e altro ancora. Le tessere elettroniche interagiscono con la carotina penna parlante. Il vano portaoggetti di tavolino molto attivo può essere utilizzato per riporre un tablet e tutti i giochi contenuti nella confezione. Inoltre, i vani portapenne laterali possono contenere penne, matite e altri oggetti utili al bambino per giocare. Grazie ad un metodo didattico sperimentato da anni nella scuola dell'infanzia, con laboratorio leggo e scrivo puoi imparare davvero a leggere e scrivere. Il prodotto è dotato di una robusta base compositoio dove il bambino costruisce puzzle degli ambienti lessicali e impara a scrivere posizionando le lettere negli appositi spazi. Poi continua ad esercitarsi con la lavagna e il pennarello cancellabile. Il tavolino luminoso, in formato A4, contiene vani per poggiare pennarelli e posizionare un tablet per sfruttare l'opportunità di Lishani Educational Interactive System. Le schede posizionate sul tavolo luminoso permettono di imparare a scrivere e disegnare ricalcando disegni, lettere e parole. Dal sito Lishani è possibile inoltre scaricare l'applicazione con nuove schede che potrai stampare e usare con il tavolo luminoso. La lavagna magnetica, di grande formato, ha una ricca dotazione di magnetini didattici, lettere, numeri, soggetti sagomati e altro ancora. Puoi utilizzare le schede ambiente in dotazione per riprodurre e completare alcuni scenari. Con la penna cancellabile puoi disegnare a mano libera e combinare i disegni con i magnetini fustellati. Lavagna parlante 2 in 1 può essere utilizzata su entrambi i lati. Da un lato l'alfabetiere elettronico parlante, dall'altro la lavagna scrivi, disegna e cancella. La base elettronica è dotata di ben 4 funzioni didattiche, l'alfabeto e le parole, suoni, rumori e versi, filastrocche delle vocali e quiz interattivi. Sull'altro lato del giocattolo, il bambino può imparare a scrivere le parole imparate oppure disegnare liberamente sviluppando la propria creatività.